Buongiorno, sono Renato Di Chiara, rappresentante della sede di via Urbano dell'Istituto Alberghiero, lui è Martino Esposito, rappresentante della sede centrale di via Salvatore Calenda e lui è Giovanni Caracciolo, rappresentante della sede di via Pertini. Noi siamo anche i futuri candidati e vorremmo un po' spiegarvi i problemi che abbiamo a scuola. La nostra scuola è una scuola che sta avendo sempre un maggior tasso di iscrizione, basta pensare alle 9 quinte oscenti e alle 16 classe primi in entrata, quindi la nostra scuola proprio per questo numero di iscrizioni alto è dislocata in tre sedi con problemi di comunicazione tra le tre sedi, cioè non c'è una buona comunicazione sia a livello di professori che a livello di studenti e questo è un punto su cui noi vorremmo lavorare. Inoltre la nostra scuola ha problemi strutturali, come si può vedere dall'esterno e meglio nel cortile della scuola, ha una struttura molto fatiscente, quindi ciò che noi vorremmo è una scuola con una sede unica o dislocata in due sedi e non in tre sedi, anche perché l'anno prossimo dovremo andare via dalla sede di via urbano e non sappiamo ancora, cioè noi ragazzi non sappiamo l'anno prossimo in che sede dobbiamo occupare. Ovviamente i nostri ragazzi il problema principale che hanno è un problema di trasporti, infatti con questo disturbo di servizio della sita e un problema di viabilità della CSTP, molti ragazzi stanno avendo difficoltà a raggiungere la scuola, sia come orario di entrata che come orario di uscita, perché escono in un orario in cui non trovano i pullman per tornare a casa subito e alcuni ragazzi sono stati costretti ad aspettare fino alle tre un pullman alla fermata o addirittura hanno dovuto chiamare i propri genitori. Una cosa inaccettabile per noi perché comunque i trasporti è una cosa importante. Altro problema sono appunto le strutture, ora abbiamo avuto dei finanziamenti con cui siamo riusciti, il Preside è riuscito a rifare le cucine, ma non abbiamo strutture anche come per fare per svolgere l'attività di educazione fisica. Qui in centrale abbiamo solo una palestra che come già detto prima è fatiscente, mentre nelle altre due sedi è assente completamente una palestra o uno spazio per l'educazione fisica. Un problema principale è la sicurezza, abbiamo delle classi molto piccole, spesso non a norma tranne alcune nella sede di via Urbano e nella sede di via San Robertini e non facciamo una prova di evacuazione, non vediamo un piano di evacuazione da circa 5 anni. Io sono in questa scuola 5 anni ma mi dicono ragazzi che sono in questa scuola da 6 anni che non si faceva già prima e non si fa tuttora. Questo è un problema secondo noi fondamentale perché la sicurezza è la prima cosa. Il nostro Preside ha avuto più volte contatti con la provincia per richiedere appunto una sede unica o comunque degli ambienti per attività varie ma non è stato mai ascoltato. Ci auguriamo che la nuova provincia, i nuovi rappresentanti della provincia, ascolteranno questo nostro appello.